ebbene raga oggi facciamo un video unboxing che mi sono arrivati dei prodottini che ho comprato per me poi domani devo andare a prendere un altro prodottino che devo regalare un'amica mia ma quello purtroppo non ci farò l'unboxing proprio perché lo devo regalare e volevo farlo vedere così tanto per e quindi dunque partiamo con l'unboxing allora partiamo dai prodottini di make up che sono diciamo il pezzo normale il pezzo forte ve lo faccio vedere dopo e c'è questo rossettino che ora vi faccio vedere guardate che bello bel color malva scuro matt poi ho preso lo stesso rossettino color malva però è un metallico la marca dei rossettini è avon il che pesca c'è scritto qua guardate avon metti a fuoco avon e poi ho preso un illuminante stick non è molto power che se no se troppo power non ci posso fare i trucchi fu il mio stile dark molto molto bellino e ora passiamo al pezzo forte questo bellissimo reggisano di pizzo violetto stupendo stupendo sempre di avon guardate stupendo tutto violetto coppa palconcino qua c'è diamantino finto diamantino stupendo e do cazzo stacca all'apertura qui è mezzo di carta che poi andrà tutta in mare le cose all'italiano che sono e qua c'è la culotte sempre in pizzo stupendo 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 sto completino sempre col finto diamantino qua e in raffo guardate stupendo tutto il chiappotto messo nella reticella di raffo stupendo l'unboxing finisce qua bella gente ci vediamo ad un prossimo video